Buonasera e ben trovato all'ambasciatore Stefano Benazzo, grazie di essere qui, è davvero un onore per noi averla nei nostri studi. Grazie di avermi proposto questa intervista, sono a sua disposizione cercando di riassumere in pochi minuti diversi decenni di attività. E' questa forse la difficoltà del giorno, anche viste le foto che abbiamo qui, una carriera esemplare, incredibile, adesso cercheremo di riassumerla ma non sarà facile, anzitutto ci spiega come, quando e perché ha deciso di diventare ambasciatore, poi vedremo ambasciatore dove e come, però ci dice perché ha fatto questa scelta? Devo fare intanto una messa a punto, non dica che è stata esemplare, ho fatto semplicemente il mio lavoro, ma ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi è piaciuto per tantissimi anni e quindi ho potuto fare con grande piacere, ma nel frattempo prima e dopo ho fatto tante altre cose. mi sono laureato a 21 anni e avevo già in mente di tentare il concorso per la carriera diplomatica, ho tentato la prima volta, è andato male, l'ho tentato la seconda, è andato bene, sono entrato. la mia prima sede è stata in Germania nel 1976 e da allora ho continuato per 39 anni in sedi in Germania, in Unione Sovietica, poi in Russia, negli Stati Uniti, in Bielorussia e in Bulgaria. Beh, questo già basta per dire che la sua è stata una carriera esemplare, lo rivendico assolutamente, so che però a un certo punto siamo stati anche colleghi, lì però ha deciso di non insistere, ambasciatore. Allora io ho cominciato, mentre facevo l'università ho cominciato a lavorare come garzone di bottega perché non saprei chiamarlo altrimenti, presso la sede della televisione americana CBS News che all'epoca copriva l'Italia e l'Europa meridionale. e dico garzone di bottega perché era chiaro, ho imparato moltissimo, però ho capito che forse non era quello che io chiamo in inglese il news, cioè la notizia, non era quello che mi attraeva di più e quindi ho lasciato, pur avendo avuto la proposta di andare e continuare a imparare negli Stati Uniti e quindi è stata la prima volta che ho rifiutato di andare negli Stati Uniti. A proposito degli Stati Uniti, io qui ho delle foto, iniziamo questo gioco, le metto a fuori di camera e le commentiamo insieme. Ma volentieri. Questa è l'ambasciata di Washington e qui se ci fosse una firma sul palazzo, io ci scriverei Stefano Benazzo. C'è la firma, c'è la firma. Ah, quindi non l'ho vista in queste foto. No, non la può vedere perché è nascosta. Allora io dal 1996 al 2001 sono stato incaricato di seguire la costruzione di questo edificio che per me è straordinariamente bello, è la più bella ambasciata che esiste a Washington. Quindi l'Italia secondo me ha questo privilegio ed è una delle più belle ambasciate d'Italia nel mondo. E per quattro anni quindi ho gestito questa costruzione, è stato estremamente divertente perché ho avuto la possibilità di litigare con molti. Perché litigare ambasciatori? Perché costruire sei piani, quattro fuoriterra all'estero vuol dire che si deve litigare con l'architetto, con il costruttore, con il proprio ministero, con il Dipartimento di Stato, con il Corpo Forestale americano, con i servizi segreti, con l'universo. D'altra parte l'obiettivo era quello di fare una cosa straordinaria. Quindi i fini dei lavori lei ha detto ma chi me l'ha fatto fare in sostanza? Ma no, il risultato è questo, c'è la bandiera, ogni pietra che vede so perché è stata messa lì, la mia firma è in alto sulla trave di sommità, quindi sono legato a questo pur essendo come un medico guarisce un paziente, poi il paziente va per la sua strada, quindi io so che l'edificio è lì e finché dura sarà un simbolo di quello che è l'Italia. Basciatore, noi in questa trasmissione siamo sempre a caccia di aneddoti, ci racconta un aneddoto particolare di questa sua esperienza a Washington, perché poi l'esperienza diplomatica continua a Mosca e non è da tutti fare queste esperienze diplomate, 8 anni di qua e 8 anni di là. Le racconto un episodio che non ha niente a che vedere con la vita diplomatica, appena arrivato a Washington prima del 1996, quindi un altro soggiorno precedente, ero andato a prendere la mia macchina che arrivava dall'Italia, la tiro fuori dalla Dogana, arrivo, vado in un'ambasciata, uscendo da un'ambasciata per andare a casa, finalmente la mia macchina guido, era una bella macchina e accelero dopo un po' Poliziotto, Poliziotto che giustamente mi ferma perché avevo superato il 30 miglia e non c'era niente da dire, multa immediata. Mi sono dato una bacchettata sulle dita, sono risalito in macchina, ho rivisto la strada libera e ho accelerato, altro Poliziotto, altra multa. A Roma direbbero Aridaglie. Esatto, lì non era proprio quello, però ho imparato. Ho capito, ma com'è fare il diplomatico a Washington? Io amo gli Stati Uniti, amo certi aspetti degli Stati Uniti e per chi è bambino, è rimasto bambino, è un paese ideale, poi se andiamo a fare della sociologia, della politica e a vedere qual è la situazione, certo la situazione non è facile per gli Stati Uniti, però essendo lì in visita senza avere tutto il gravame che può venire da essere parte in causa e quindi con le difficoltà di tutti i generi, era un momento bellissimo per me, potendo viaggiare dappertutto e viaggiando. Invece poi in Russia come si trova Benazzo, l'ambasciatore Benazzo? Io da parte di mia madre sono mezzo russo, quindi per me essere a Mosca significava, non dico un ritorno perché miei nonni sono partiti da Mosca nel 1914, senza minimamente pensare che nel 1917 avrebbero perso cittadinanza, tutto quello a cui appartenevano, quindi io sono andato perché era il posto più interessante dove nel 1980 potevo aspirare ad andare, era molto difficile, era il comunismo più duro, più severo, la prima volta che siamo usciti con la famiglia appena arrivati a Mosca dove avevamo bisogno di chiodi, siamo usciti e andiamo in un negozio, avete dei chiodi in vetrina, posso averne una scatola? No, quello è solo per pubblicità. C'è un martello in vetrina? No, quello è solo pubblicità. Poi mio figlio voleva un gelato, abbiamo visto una gelataia, siamo arrivati dopo 20 minuti di coda e ha tirato giù la sala cinesca perché aveva finito. Quindi quando uno riceve queste lezioni all'inizio capisce subito che è un altro spirito. È un altro mondo anche rispetto a quello vissuto da noi. Io mi sono trovato, con i russi mi sono trovato sempre molto bene, con le autorità era ovviamente diverso perché sia nell'80 che quando ci sono tornato nell'89 le condizioni erano cambiate però lo stesso era un paese non facile. Immagino per lei poi sia stato particolarmente difficile perché so che nelle sue ispezioni quando era ispettore alla Farnesina parlava ai dipendenti addirittura di passioni. Confrontarsi con un clima così gelido e poi la diplomazia sappiamo che di suo ha poco di passionale, è molto di etichetta e la plomb del diplomatica è quella. È quello. È forse per quello che io da ispettore alla fine delle mie ispezioni chiedevo sempre ai dipendenti delle ambasciate, dei consolati, degli istituti di cultura se avevano delle passioni perché senza le passioni non si va avanti. Forse proprio dalle esperienze difficili che ho avuto in certi paesi che ho capito l'importanza di avere delle passioni vere e cioè di non arenarsi e pensare unicamente a quello che può essere la promozione, il prossimo posto o l'interesse di quel momento ma di andare oltre e di far vedere anche a chi è più giovane di me in questo momento che si può andare oltre, si possono inventare delle cose come io ho fatto dieci anni fa, 62 anni lasciando la carriera diplomatica e mettendomi a fare il fotografo di relitti spiaggiati. Adesso lo vedremo. Diciamo solo che la sua carriera diplomatica continua in Bulgaria, in Bielorussia. Sono stato ambasciatore in Bielorussia, sono stato ovviamente anche in quei momenti dopo Chernobyl e ogni volta che vedo delle trasmissioni ovviamente mi si stringe il cuore. Sono stato ambasciatore a Sofia in Bulgaria dove le condizioni erano ovviamente molto diverse perché la Bulgaria è membro dell'Unione Europea, è un paese di antica civiltà e quindi non è certo confrontabile a tanti altri e sono stato privilegiato ad essere capo missione a Sofia. Eppure a un certo punto lei dice stop. A fine 2012 mi sono reso conto che era il momento di andarmi. Ma perché? Chi ha una carriera così se la tiene stretta? Ma avendo avuto moltissime soddisfazioni professionali avevo visto posti straordinari, incontrato molte persone, vissuto, commentato, subito, sofferto, non vedevo molte altre possibilità e quindi non avendo più niente da insegnare o forse molto da imparare ma non mi era evidente. Su questo io non mi trovo d'accordo con lei, io sarei le ore a prendere insegnamenti. Il 31 dicembre 2012 ho preso la mia valigetta 24 ore, avevo già portato via uno scatolone con delle cose, ho preso la mia valigetta, sono uscito dal Ministero degli Esteri. Si chiude quella porta e se ne apre un'altra e qui forse abbiamo un'istantanea di quest'altra, forse stava seguendo proprio le sue passioni. Ma sì, quella è stata una delle mie passioni successive, cioè scolpire e lì scolpisco una delle mie sculture preferite che poi penso che lei abbia l'altra parte, poi la vediamo. Ne ho molte, diciamo così. E quella era una delle mie occupazioni, poi già nel 2012, io nel 2013 ho fatto una prima mostra che era questa e questo è il catalogo della... Diciamo la redazione di Rete Sole l'ha messa a dura prova, è ambasciatore, perché qui noi facciamo questa ricognizione sull'ospite e cerchiamo di trovare cataloghi. Però nel caso suo è talmente eterogenea questa carriera che abbiamo avuto difficoltà, fino a poco prima di iniziare la trasmissione non sapevamo cosa stampare, dove guardare, perché lei decide di fare lo scultore, però non è che lo fa così nella bottega di casa. Io quando ero a Washington sono andato da uno scultore a studiare, io tre sere alla settimana andavo a studiare quattro ore per imparare l'arte da uno scultore di origine italiano, durissimo, perché se non gli piaceva una cosa, prendeva e la buttava per terra. Non ho dubbi della sua applicazione, però tutto quello che ne consegue, cioè lei ritorna ambasciatore nell'arte, ecco questo fa una carriera, mostri a livello internazionale, cataloghi mondiali, no, quindi non è facile ambasciatore, non è... Basta avere voglia di farlo, avere costanza, avere fortuna, alzarsi la mattina presto. Lei quanto dormi ambasciatore? Fino a due o tre anni fa dormivo sette ore per notte, adesso sono sceso a sei. Ah, ecco, troppo direi, no? No, mi disturba molto, ma è un buon segno, vuol dire che sto invecchiando, quindi ringrazio, finché dura. Senta, io qui ne ho selezionate alcune, cerco di fare attenzione perché... Sì, non si preoccupi. Ecco, queste sono le sue sculture, non vorrei rovinare qui. Alcune delle mie sculture, questo è un tre alberi fatto in tec, con dietro le colline umbre, per rimanere in ambiente, ed è un omaggio a tutto quello che io ho fatto in barca, perché io ho cominciato ad andare in barca quando avevo 14 anni e quindi è sempre rimasto molto vicino a me tutto l'aspetto del mare. Questa è un'altra scultura che è una fiamma, alta 80 centimetri, sempre in tec. Tra l'altro, lo diciamo a beneficio di chi ci sta guardando, lei ha scelto l'Umbria per vivere, poi... Io ho lasciato Roma, avevo una seconda casa vicino a Todi e lì mi sono installato. E' Umbro di adozione adesso? Sono Umbro di adozione, sono residente in Umbria, voto in Umbria, non mi chieda cosa voto, perché... No, 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 questo ci mancava, poi siamo pure in parcondicio, è meglio di no, non vorrei incorrere... Guai, 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 guai. Quindi, no, continuo a farne vedere altre perché sono davvero belle. Ecco, a me piace scolpire sia in bronzo che in legno, alluminio anche, facendo fondere alluminio, e questi sono due tronchi tagliati e inseriti uno nell'altro, non hanno un significato particolare, ma mi piaceva l'idea di mettere questi due tronchi. Io ci vedo un pianeta qui, non so che... Ma probabilmente... C'è un pianeta, facciamo così. Il bello di una fotografia o di una scultura è che non si deve spingere per una certa interpretazione. Questo è alto 80 centimetri e un fiore è una delle mie più belle perché sono riuscito a far venire fuori tutta la venatura. Le fotografie sono mie, ovviamente questa contro il cielo. Va bene, va bene, ne farei vedere tante altre, però non abbiamo tempo perché a un certo punto lei si occupa di relitti, no? Poi l'abbiamo accennato. Allora, io ho fotografato il mio primo relitto nel 69, perché io fotografo relitti spiaggiati, quindi non relitti sommersi, io non mi tuffo, spiaggiati perché per me sono l'immagine della vita, in quanto quel relitto ha fatto la sua parte, ha navigato, ha riportato a casa, a terra, gli uomini, ed è rimasto lì perché è stato abbandonato. Attenzione, io non vado né in India, Pakistan, Bangladesh, dove sono le navi da smantellare. Per lo stesso motivo non ho fotografato Costa Concordia, anche se ero andato a vederla e ero a Genova mentre la smantellavano. Perché non è un relitto per me, i relitti sono abbandonati, non dico casualmente, ma perché la vita è andata così, per stanchezza, perché aveva un danno, perché erano inutilizzabili, però non navi da smantellare. Quanti ne ha catalogati? Io ho fotografato circa 500 relitti in tutto il mondo, in 22 paesi diversi. Voi dovete sapere che l'ambasciatore Benazzo, quando uno lo contatta telefonicamente, può rispondere «eh, sto partendo per l'Alaska, però mi porto solo una capanna», no? Quindi, ecco, abituato al diplomatico, poi uno fa fatica, ambasciatore, io glielo dico. No, ha ragione. Stavo partendo, quando ci siamo sentiti la prima volta, per tre settimane in Alaska, dove sono stato a bordo di una ex nave idrografica di 30 metri e in una capanna senza luce, senza acqua, senza gabinetto, in sacco a pelo. Quindi, ecco, mi abituo anche a cose che per me sono abituate, le ho fatte per tanti anni, non ho problemi, però ho trovato 29 relitti in tre settimane, il che è significativo. Lei mi dirà perché faccio questo? Perché il simbolo rappresentato dal relitto sono gli uomini e quindi il dovere di memoria verso gli uomini che erano a bordo. Questa è la sigla, se vogliamo, di tutto quello che io faccio dal punto di vista di ricerca fotografica di relitti. Tra l'altro c'è un libro in francese, se non erro, in cui sono i relitti che si rivolgono alle persone. A novembre dell'anno scorso ho fatto una follia, ho fatto stampare da un editore francese questo libro, pesantissimo, grossissimo. Un non libro, diciamo. È in francese e sono 50 racconti che mi sono stati fatti dai relitti mentre li fotografavo. Quindi sono loro che parlano a lei. Sono loro che parlano di uomini, non un uomo che parla di navi. Quindi è un controsenso, è una cosa del tutto onirica, però ce l'avevo dentro e quindi ci tenevo a farlo uscire in qualche modo. Sì, e io qui ho anche uno studio sulle locomotive a vapore perché non ci facciamo mancare niente, ambasciato. Sì, beh, siccome io da piccolo non avevo un treno miniatura, non avevo un modellino e quindi ho cominciato a 30 anni e mi sono scatenato perché poi ho avuto sempre plastici e siccome non sapevo come funzionavano le locomotive a vapore ho cominciato a studiare. Alla fine sono diventato presidente di un'associazione internazionale che promuove e difende le locomotive. I treni antichi e quindi è una cosa che a me piace, mi sembra che sia giusto farlo. Ma come fa a trasformare in oro quello che tocca? Perché guardi, io ne faccio vedere un'altra di foto. Ecco, questo è uno dei tanti modelli dell'Americo Vespucci, orgoglio nazionale della Marina Militare. Grazie di averlo mostrato, di questo io vado molto fiero. Il suo sta allo stato maggiore, no? Io ho cominciato a fare modelli quando avevo 14 anni, modelli di barche e navi e un giorno mi sono reso conto che la più bella imbarcazione di cui potevo fare il modello è nave Vespucci e quindi ho passato 364 serate, non dico notti, un giorno meno di un anno, a costruire questo modello in scala 1 a 100 che è attualmente nell'ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina a Roma. La Marina Militare ha 1200 modelli. Se hanno scelto il mio, io sono un ufficiale degli Alpini, non ho niente a che vedere con la Marina Militare, evidentemente c'era un motivo e credo che sia ben riuscito. Ma si può vedere, tutto quello che io dico può essere visto sul mio sito. Sì, tra l'altro lei è molto attivo sul suo sito. Ebbè, è l'unico modo. Poi la mia generazione come ventenne, per forza io sono obbligato, ventenne non può non essere. Non ho tutto da raccontare, quindi assolutamente. Però ecco, questo è il vero tema, cioè che lei dice no, io devo capire i modellini, però poi diventa presidente dell'Associazione Mondiale dei Modellini. Mi hanno cooptato, io non ho fatto niente, non è che uno si presenta candidato. Le posso raccontare un aneddoto? Io chiaramente prima delle interviste mi preparo, anche se nel caso suo già ero ferratissimo. Studiando la biografia, io ho una casetta a bracciano, non mesce fuori che lei ha contatti anche presidente del circolo vellico di Bracciano. Allora, come si fa? Io ho cominciato ad andare in barca a Anzio e a Bracciano, quando avevo 14 anni. E ovviamente a Bracciano, appena arrivato al circolo, mi hanno suggerito di andare a vedere se i gabinetti erano puliti. Ecco. E' un modo elegante per farmi capire come si comincia a ragionare. Ho passato tanti anni lì, poi un giorno mi hanno chiesto se volevo fare il presidente del circolo. E ho detto di sì, perché mi sembrava utile, c'erano dei problemi. E ogni volta che, adesso non sono più presidente, ogni volta che c'era una premiazione, io cominciavo immancabilmente dicendo che ho cominciato in questo circolo pulendo i gabinetti. Vedete che il merito viene premiato, quindi era un modo come un altro di cominciare con una battuta scherzosa e poi continuare con la premiazione. Allora, ambasciatore, siamo negli ultimi dieci minuti di trasmissione, qui affrontiamo la stretta attualità. Nostro malgrado dobbiamo essere seri in questa parte. Io non posso non chiederle, le faccio vedere due foto, sono le foto che determinano le domande, faccio vedere due signori. Sì. Questo e quest'altro, ormai tutti conosciamo. Certo. C'è un conflitto in atto, ci sono due interpretazioni diverse dello stesso conflitto, c'è una genesi di un conflitto che forse andrebbe più approfondita. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere quel mondo. Cosa sta succedendo lì? Io non sono uno scienziato della politica, non sono un polemologo, non sono un politico, non sono un giornalista, però ho cercato di documentarmi e ho fatto quindi diverse conferenze sulla genesi di quello che alcuni chiamano guerra, altri chiamano operazione militare speciale. E cioè tutto quello che è successo fino al 22 febbraio di quest'anno. Cominciando nel 1988, perché nel 1988 a Kiev è nato il Rus, da cui poi è venuto fuori la terza Roma, da cui è venuta Mosca, da cui è venuto l'impero russo, da cui è venuto il comunismo, da cui poi il comunismo è caduto e c'è attualmente la Russia. Quindi io mi guardo bene dall'andare oltre il 22 febbraio. Prima perché il conflitto è in atto, secondo perché non ho la palla di vetro, terzo perché non è mio compito, non devo essere eletto e portare avanti delle tesi. Quello che è successo prima del 22 febbraio sono in pochi a saperlo, perché la gente si basa su quello che ha sentito, su idee preconcette, sulla convinzione che uno o l'altro possa essere aggressore o abbia fomentato delle crisi. Però ambasciatore, al di là delle interpretazioni che possono essere diverse, ci mancherebbe, possiamo dire che il dato di fatto è che la diplomazia ha fallito in quel caso? Io comincio spesso le mie conferenze con un paragrafo che lascia tutti di stucco, e cioè io dico, signore e signori, grazie di essere venuti questa sera, posso fare un commento? Abbiamo sbagliato tutto. Io non c'ero nel 45 ovviamente, quindi non ho partecipato alla creazione del mondo attuale, però se io vedo quello che è successo dal 45 fino a oggi, sì, abbiamo sbagliato tutto, ma non solo i diplomatici, i politici, i diplomatici, i giornalisti, gli imprenditori, tutti quelli che si sono fissati dietro a un'idea e hanno portato avanti un certo discorso per i loro interessi, economici, politici, religiosi, non dimentichiamo tutto l'aspetto religioso, e il risultato è questo. Quindi certo, abbiamo sbagliato tutti, ma dalle due parti. È assurdo parlare di una guerra in Europa nel 2022. Si vede che era negli astri e che abbiamo fatto di tutto per non saperla prevenire. Capisco. Tutte queste risposte sono risposte con cui giro intorno, ma perché non posso prendere posizione. Capisco, qui è ancora un po' diplomatico, diciamo, è poco artista, forse è più diplomatico che artista. Giorni fa abbiamo perso Gorbaciov. Un grande uomo che in buona fede ha ritenuto possibile portare dei cambiamenti epocali senza guardarsi alle spalle. Alle spalle intendo non chi gli sparava nelle gambe, ma quello che era il sostrato della società e quello che potevano essere le aspettative delle persone nelle varie generazioni, perché le persone non sono mai i ventenni o gli ottantenni, le persone sono tutta la gamma. Le persone sono quelle che vivevano a Leningrado, a Mosca o a dieci fusi orari di distanza, oppure nell'estremo nord o in Crimea. Quindi questo aspetto della valutazione era impossibile, diciamo pure. Lui ha fatto dei miracoli. Eppure ai funerali non c'era tanta gente. Beh, non poteva essere. Ci è arrivato un mazzo di fiori da parte del presidente. Anzi, che è arrivato, insomma. Sì, beh, aveva da fare a Kaliningrado, non poteva essere al funerale. C'era Medvedev, c'era poca gente perché non era amato in patria. Invece è molto amata in patria la regina Elisabetta II. Adesso non si parla d'altro. Adesso non si parla d'altro. Sì, io vedo la BBC ogni tanto buttare un libro, una notizia sull'Ucraina piuttosto che... Ma con estrema parsimonia perché continua a essere... Se l'aspettava lei... Vabbè, a 96 anni, scusi, se lei mi dice... No, 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 non la morte, questo clamore che c'è stato, internazionale, non a livello inglese, proprio del Regno Unito. Perché la regina è considerata visceralmente come una madre, come in effetti è giusto che sia. A 96 anni la maggior parte degli inglesi non hanno visto altro dal punto di vista di regnante. E quindi io sono rimasto affascinato a vedere la compostezza con cui la monarchia, la democrazia, le istituzioni e il popolo hanno affrontato questo evento. Non sto dando giudizi sulla regina o sulla monarchia, sto solo guardando quello che io ho visto succedere. E quindi questo mi è piaciuto molto. Capisco. Ambasciatore, abbiamo un ultimo minuto da spendere. Qui ci sono tante foto che io per motivi di tempo non riesco a far vedere tutte. Le chiedo di sceglierne una lei. Questa so che forse lei è molto affezionata. Questa è una foto che mi piace molto. Perché l'ho vista sul suo sito questa. Sì, è sul mio sito ed è una foto scattata fra le porte antiche di una città in Francia. La marca della macchina fotografica è accuratamente nascosta come deve essere perché sennò poi ci danno a dos. Ma anche per noi è meglio. Ma no, guai. Un esperto sa riconoscere che macchina e che modello. Forse ho capito, però non lo diciamo. Non lo dirò mai. Vabbè, quella è una fotografia di me ma la scarto non è... Sì, allora scegliamone un'altra velocemente. Io le posso proporre questa. Questa. Le posso proporre questa che sono dei relitti in Argentina o in Cile e che per me sono molto importanti perché esprimono veramente questo abbandono ma il fatto che il dovere di memoria è rispettato. Gli uomini che erano a bordo sono vivi tramite le mie fotografie. E abbiamo capito che per lei questo è un tema assolutamente centrale. Non vada via subito perché io ho il suo libro da farmi autografare e ci tengo tantissimo perché lo voglio conservare gelosamente nella mia collezione. Con grande piacere. Ambasciatore, è stato davvero un onore intervistarla. Siamo contenti. Grazie mille che abbia trascorso questa mezz'ora con noi. Ci auguriamo di rivederla presto nei nostri studi. Grazie dell'attenzione e mi dispiace se qualche volta ho girato intorno senza entrare... Con i diplomatici è così. Ma purtroppo è necessario perché non bisogna rendere difficile l'ascolto di un'intervista. Però sono a sua disposizione sperando che ci siano altre occasioni anche a Perugia perché no, avendo fatto 50 mostri personali... Beh una mostra a Perugia io la vedo bene, glielo diciamo al sindaco. Il sindaco ci guarda, quindi glielo diciamo al sindaco che noi proponiamo la mostra dell'ambasciatore Venazzo. Grazie. Grazie davvero. Grazie infinito. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie a tutti.